E' il Nord di Muglia del 2006, è l'Olympia Stanton di Berlino, è l'Italia Francia, è la finale, un saluto alla famiglia di essa e Beppe Bergamo. E' passato a cazzo! Ma che cazzo? Ciao Racco. Ma ma chi sei? Come chi sei? Sono il nuovo mister. Sono il nuovo che? Sono il nuovo mister, ti voglio portare ai mondiali. Perché? Oh, giro che non mi faccio più. Non sto a scherzare a chi? Te ti fide, beh? Ti fido che? Te ti fide. Ma no, ma che dici? Io sono fatto dalla stessa sostanza in cui sono fatto i sogni. Quindi molto dei arzi. Ti cazzate. Ti diverso perché tu andassi in mondiale, hai capito? Sì, forse quando avevo 8 anni, ma molto. Ho capito. Ma te ce li credi nei sogni? Te ce l'hai in sogni, adesso ce l'hai in sogno? Sì, forse. Ho capito, via sto sogno, riparti da zero, hai capito? O vuoi che si brucia pure questo? O vuoi rimanere in panchina tutta la vita, eh? Vuoi rimanere in panchina tutta la vita? No. No. Porca Troia! Tor! Cor! 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 Woohoo 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 I got my head checked By a jumbo checked It wasn't easy But nothing is Now Woohoo Well I'm amazing All of the time But I'm never sure why I'm nature At least I'm nature Oh yeah Cocco Now You're a real professional player And I'm 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 Questo finirà così E' il fine Si cazzo A 106 la tendone Si ma lontano Si ma lontano Si ma ne hanno path Se mette� Grazie per la visione!